Tommaso Pieroni, l'ex di questo incontro, i tuoi trascorsi a Pesce Zanese anche importanti, capo cadenere lo scorso anno, ti sei procurato il calcio di rigore, hai preso un palo e hai chiuso la partita, meglio di così non poteva andare. Beh sì, diciamo che secondo me la cosa più bella è stata l'assist per Brega, è andata bene, il gol fa sempre piacere, l'importante era dare continuità a quello che stiamo facendo, al lavoro mio personale perché forse quando sono arrivato ero leggermente indietro rispetto agli altri, credo che con tanto impegno, con serietà sto ritornando al piano della forma e sono pronto per dare una mano a tutti per il finale di stagione. Ecco sei uno degli ultimi arrivati insieme a Balestri, anche lui quest'oggi è andato a segno con il gol del pareggio, che ambiente hai trovato, che gruppo di ragazzi hai trovato appena sei arrivato qua a Ponsac? Il gruppo è eccezionale anche perché lo capisci quando poi magari sei nel 4-2 a tempo scaduto e comunque vedi arrivare tutti i compagni che ti abbracciano, quindi capisci che ti sei integrato bene e che hai trovato un gruppo di ragazzi seri e che hanno grandi valori. Credo che la squadra sia una squadra forte, siamo tanti, il mister ci sta ruotando e penso che l'importante sia riuscire a tenere questo vantaggio, che oggi siamo andati a più 9 e pensare poi anche alla Coppa Italia. Ecco, all'inizio della ripresa il mister ti ha messo dietro le punte, secondo me hai fatto 20 minuti veramente alla grande in quel ruolo, l'avevi già fatto in passato oppure è stata una novità per te? Ma anche il quartista è un ruolo che posso anche fare, qualche volta l'ho ricoperto e mi ero messo lì perché forse per disturbare un po' anche Arrica che comunque organizzava gioco per loro, quindi poi niente, è chiaro che io sono comunque un giocatore offensivo, quindi poi c'è stato l'assist, ci sono state altre belle giocate e niente, io mi metto a disposizione, quello è un ruolo che posso fare, quello a sinistra, insomma non ci sono problemi.